La Biblioteca della Regione è entrata a far parte del servizio SBAM, sistema bibliotecario dell'area metropolitana di Torino, che mette a disposizione dei cittadini gratuitamente un patrimonio di circa un milione e mezzo di volumi, giornali, CD, videocassette e DVD. Senza spostarsi, i lettori possono scegliere un libro presente in una delle 59 biblioteche civiche del sistema e ritirarlo presso la sede desiderata.